mi trovo bene perché facciamo tante cose quindi sta bene tipo che cose facciamo cantiamo poi suoniamo con il tamburo lo xenofono e tante altre cose la canzone che mi piace di più è quella delle rose perché c'è un pezzo c'è quel pezzettino che fa mi piace molto allora la cosa che mi è piaciuta di più e allo stage quando suonavamo tutti quegli strumenti tipo la xenofono il tamburo la pianola ecc perché per me siamo molto bravi facciamo tante cose e e abbiamo canzoni molto belle io oggi ho studiato tutte le canzoni allora io sono venuto ad art group perché un mio amico mi continuava ad invitare a venire mi diceva è un posto molto bello le persone sono molto brave vieni prova un giorno se ti piace continui se non ti piace puoi smettere io sono venuto mi sono trovato molto bene perché in effetti come diceva lui la gente le persone con cui canto e facciamo lavoratori sono molto brave e c'è anche luca che ha inventato le canzoni che ha avuto molta fantasia e comunque ci dà una mano a cantare ciao io sono alice io sono marta io luigi allora non abbiamo una canzone preferita in quanto ci appassionano e ci rispecchiano più o meno tutte ma in particolar modo deserto e piccolo principe deserto per la musica molto melodica e piccolo principe perché racconta in breve la storia di questo principe io sono molti anni che partecipo a queste attività da quando eravamo ancora a coro dello zucchino fino ad arrivare ad art anch'io mentre luigi è arrivato solo quest'anno come già cenato lì l'alice io sono solo qua da quest'anno ma nonostante ciò mi sono integrato molto bene e invito altri ragazzi a venire a noi a giungersi a noi ciao a tutti siamo Iaria Nicolò e Veronica questa che avete appena sentito è l'inizio della canzone del deserto che fa parte del nuovo cd anche se per noi la più bella cioè quella che piace di più a noi è la canzone della volpe una canzone dove troviamo il piccolo principe appunto la volpe che discutono su un tema molto importante che è quello dell'amicizia ma soprattutto perché è dedicata una figura molto importante la volpe che ci insegna che l'essenziale è invisibile agli occhi venite anche voi a vedere stelle come milioni di sonagli vi aspettiamo ciao a tutti io sono Jessica a me piace molto Art Group ed è molto che ci vengo e le canzoni che noi facciamo a me piacciono moltissimo però quella che mi piace di più è quella della volpe perché mi ritrovo in alcuni aspetti ed è molto bella perché parla del piccolo principe che ringrazia la volpe anche se la deve lasciare per andare dalla sua rosa ciao io sono Giada la mia canzone preferita è quella dell'avviatore perché fa vedere le differenze tra l'adulto e il bambino ciao io sono Miriam e io sono Attea allora per me le canzoni che facciamo e che produciamo all'art group sono molto belle ed emozionanti però quelle magari preferite e più toccanti per me è la canzone del piccolo principe perché spiega il suo carattere, i suoi aspetti e mi fa ricordare tanto degli aspetti della mia vita mi piacciono tanto tutte le canzoni che abbiamo fatto ma uno in particolare che preferisco è quella del piccolo principe perché a volte ricantandomela in testa so come reagire, so cosa fare e invece quella che mi piace di più per la melodia è la canzone del deserto ciao io sono Giulia io non ho canzoni preferite, mi piacciono tutte sono tornata in questo gruppo quest'anno e ce l'ho messa tutta per recuperare tutte le canzoni che avevano già provato tutti e mi trovo bene ciao io sono Silvia e come hanno detto le canzoni che abbiamo fatto sono molto belle però quella in particolare è la canzone delle rose perché mi piace la musica ed è molto spiritosa io sono Daphne e a me piace Art Group perché qua facciamo molte cose stiamo insieme e non ho una canzone che mi piace di più perché mi piacciono tutte ciao io sono Alessia e vengo d'Art Group da molti anni la mia canzone preferita è quella del deserto perché mi piace l'effetto che fanno le due voci e spero che anche altre persone che vedendo la nostra intervista decidano anche loro di venire qua perché Art Group insomma è molto divertente posso la farola o non mi ricambalcista? ciao sono Francesca e sono qui solo da ottobre quest'anno e la mia canzone preferita è quella della Volpe perché ti fa riflettere sul senso dell'amicizia ciao io sono Gloria, come ha detto Francesca partecipa d'Art Group solo da quest'anno la mia canzone preferita è quella dei Tramonti perché è molto ritmata e si rispecchia a quella dei nostri tempi francesco ciao io sono Francesco non so suonare il contrabbasso io dico dal gruppo da quando hanno fatto il cd da prima che mi hanno fatto il cd natale speciale compratelo e anche se ci ho passato parecchio non ho una canzone preferita al controllo di quanto sembra da questa intervista non stiamo più pazzi lo spettacolo, lo spettacolo beh lo spettacolo può semplicemente essere favoloso fantasioso divertente colorato beh lo spettacolo può essere solo una cosa per scoprirla basta vederla a vedere no? è l'ultima guardia che mancava qualcosa scusa Luca è un po' musica è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato vai vai grazie a tutti grazie a tutti